Ma chi stiamo facendo qua? E che ne sai? Tu vieni al San Dementio, perché siamo qua? Perché lo dico io. Perché lo dico io? Perché tu rispondi? Perché siamo qua? Ah, faccio io perché allora. Perché dobbiamo fare lo spettacolo. Dei Tarli. Il 18 novembre. Venerdì 18 novembre, ore 21, tornano i Tarli al San Dementio. E qui si vuole fare lo spot. Esatto. Qua davanti al bottegineo. Qua si vedeva i biglietti. Bravo, perché l'altra volta si va a accendere così, tutto esaurito. Amico mio, che è venuto da Roma, non l'ho trovato. Quindi venerdì 21 novembre. 18 novembre. Perché l'altra volta? Ma non lo so. Venerdì 18 ore 21, tornano i Tarli, Cinema Teatro, San Dementio. San Dementio, San Dementio. E se la musica è buona, ci facciamo a portare, ci stringhiamo canzoni e tiriamo a campare. E camina, 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 che di madrugà. A guitarra è oltre...